La musica sta sempre buona, no? Ma pigliare via? No, non c'è nessuna via, la musica è musica. Pasquale la coppa non sa, lo va a capo e manca si uscirà. No, non ce lo faccio, eh? E' l'unica divisa che mi arriva, la divisa coloniale. Allora, da Ischia arriviamo a Catania, con una banda ben piazzata in effetti. Entravamo in un spiegato che diceva, adesso la nostra grande banda andrà a ricevere la banda di Ischia. C'era la grande banda, era da 50-60 persone. Ragazzi sono un maestro per capito? No. Stai là. Ma poi c'è anche lì consigliato. Lì consigliato, va bene. Apri con lì consigliato. Alla fine a tutti. Alla fine a tutti. Posso avere... Doppia marcia sinfonica. Doppia marcia sinfonica. Doppia marcia sinfonica. Come un modestissimo musicando. Questa grazie da voi professori. Come no? No siamo tutti suoi alunni, Michele. Per il mio curriculum. E' un curriculum che ciò. Ma ma come è stata da lì? E' 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 stato da lì? E' stato da lì? Come si è fatto? E' stato fatto che tu facevi il capobando, no? Quindi avevi una responsabilità. Poi ti sei sempre assunto delle responsabilità di chiamare tutti, di organizzare. Perché poi per andare a fare... Non dovevo imparare la musica. Ma dovevo fare, suonare la musica. Perché ci credivi? Perché poi avete trasmesso a noi. Avere... Mi sono comportato con molti di voi. Vi ho portato... Ma ci ho fatto suonare belle per i mesi di piazza, un colpo qualche. Però... Sempre... Sì. Muse e lì. Muse e la musica. Si è più vero. Muse e la musica. Vittuata. Messa parte di Piazza. Aveva lì. E' un altro tempo. E per lui. Per chi? E' un altro tempo. Perchè? perché va la musica ma... Mettete un bacio di Santo Cano, non voi preoccupate, andiamo a scendere con Santo Cano in piazza. E qui stavo comitato, andiamo a scendere con la cosa di Pasqua, un reggine a cielo. Noi stendiamo con Santo Cano. Gli affurri, voglio... Che ne sai affurri? Si è piaciuto, si è fatto. Si è anche tu che affurri. Da un momento andate, sono capace di entrare sotto e di riuscire. E' vero. Noi! Andeng! Ehi! 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 Buongiorno a tutti! Antonio! Mamma sei! Mamma sei! Tu ci sei meglio! Un piacere dirti! L'altra sera abbiamo parlato di te! Ma cosa fai? Ma cosa fai? Allo! Allo! Eeeh! 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 Eeeh!